Vittorio Sgarbi è pronto a lasciare l'incarico di Assessore regionale ai beni culturali. Le sue divisioni richieste anche dal Governatore Nello Musumeci dovrebbero arrivare formalmente entro il 27 marzo. Che il critico d'arte potesse lasciarle nella Regione per fare il deputato alla Camera si sapeva da tempo. Adesso però è arrivata la conferma e una data, il 27 marzo appunto, entro cui andare via. Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle all'Ars ha presentato una mozione di censura contro l'Assessore ai beni culturali che invita il Presidente della Regione Musumeci a provvedere senza indugio alla rimozione immediata e alla sostituzione di Sgarbi. Questo a causa dei continui squalli di turpiroqui via social e le reiterate offese indirizzate spesso impose indecenti ad attivisti, militanti e portavoce del Movimento 5 Stelle e soprattutto contro Luigi Di Maio uniti alla scarsissima produttività della delega assessorale di Sgarbi che si sono tradotti in un atto parlamentare che il Movimento 5 Stelle cercherà di portare in aula al più presto. Sgarbi, col suo inqualificabile comportamento, afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars ha reso il decoro della Sicilia e dei siciliani. Più volte abbiamo chiesto al Musumeci di rimuoverlo ma finora il Presidente ha fatto orecchie da mercante. Adesso arriva anche l'annuncio delle dimissioni, quindi tutto rientra anche nel Movimento 5 Stelle. Intanto è iniziata la corsa contro il tempo per approvare la finanziaria e il bilancio entro fine mese evitando di prolungare per tutto aprile l'esercizio provvisorio.